Oh salve! Ordinata io! Fammi indovinare! Gli X-Men ti hanno affidato una missione? X-Men ti? Sono una teenager! Vorrei essere ovunque tranne che qui! È là fuori! E tu credi che essere secondo basti? Sai che cosa ho dovuto fare per acquisire il potere che ho? I sacrifici che ho fatto, i corpi che ho sepolto, i cinque anni passati in una prigione di Shirabat! Le persone devono capire che pagheranno per avermi sottovalutato! Essere secondo non basta e non mi basterà mai! Perciò mi serve la lampada e non mi serve più tu! La vita sarà più clemente con voi, principessa. Quando accetterete le tradizioni e capirete che è meglio per voi essere guardata che ascoltata. Sai, una volta ero come te. Un ladro comune. Ma io ho pensato in grande. Ruba una mela e sei un ladro. Ruba un regno e sei uno statista. Solo i deboli si fermano lì. O sei l'uomo più potente di tutti o non sei nessuno. Ne ho abbastanza di voi, principessa. Cominciate a fare ciò che avreste dovuto fare dall'inizio. State zitta! Allora è così che andrà. Neanche il titolo di sultano le sveglierà il greggio e dal torpore. Avrei dovuto saperlo. Se non vuoi inchinarti davanti a un sultano, proverai terrore per uno stregone. Io sono il sultano! È il più grande stregone che il mondo abbia mai visto. Creerò un impero che la storia non potrà ignorare. Io posso distruggere città. Posso distruggere regni. E posso distruggere te. Un altro insulto meschino da quello sciocco dalla mente ristretta. Lui vede una città dove io vedo un impero. Non c'è visione! Quando avrò quella lampada tra le mani, siederò io sul suo trono. Posa di nuovo i tuoi occhi su di lei e scoprirai nel modo peggiore il mio lato bestiale. Il più potente dell'universo! Finalmente! Secondo a nessuno! È io che ho creduto di avere potere!